Allora, con il migliore del derby, Puccioni, una partita veramente molto solida, è una partita che vi serviva per dimenticare Lucca? Sì, a Lucca siamo un po' calati in intensità, soprattutto in difesa, oggi invece siamo ritornati alla nostra vecchia difesa in cui siamo stati molto solidi e abbiamo fatto fare pochi punti. Abbiamo faticato molto stasera, però alla fine il risultato si è ottenuto. Che è servito per superare magari un primo tempo dove siete riusciti a pareggiare sul finire, però avevate avuto qualche difficoltà? Sì, abbiamo avuto qualche difficoltà. Piccato, volevo dire che questi ragazzi con cui giochiamo, questi ragazzi molto giovani, sono una forza della natura. Infatti la nostra forza quest'anno sono loro, non siamo né io, né Rabaglietti, né Santomieri, nessuno di noi. Sono una forza, sono loro e con una loro difesa, quando partono contro piedi e difesa sono impressionanti. Sono molto soddisfatto di giocare qua e di avere questi ragazzi e crescere anch'io insieme a loro, perché alla fine non si smette mai di imparare e di crescere. L'ultima cosa, visto che ci sono tante risorse e tutti arrivano a dare qualche cosa, visto la tua esperienza, che prospettiva può avere questa stagione per l'Enic? Allora, la prospettiva della società è quella di far bene comunque e di far crescere i giovani. Poi tutto quello che avviene è ben venga, cerchiamo di non lasciarci dietro niente e di ottenere tutto quello che è possibile. Grazie. 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 Grazie.